Sindaco Quinci, che cosa si aspetta dalla visita della Commissione Europea della Pesca? Intanto è un'occasione straordinaria ricevere la Commissione Parlamentare del Parlamento Europeo della Pesca e l'occasione per accorciare le distanze che oggi vedono una marineria protagonista nel Mediterraneo ma ininfluente al Parlamento Europeo. E' un modo per incontrare, per conoscerci, per portare le nostre proposte a coloro che dovranno costruire le regole che decideranno il futuro della nostra economia, cioè il futuro della pesca, cioè la stessa identità della nostra comunità cittadina. Ed è un'occasione che noi sfrutteremo al massimo, non soltanto ai tavoli tecnici, ma attraverso i volti, le storie, le parole, le vite dei nostri pescatori, dei nostri imprenditori del settore della pesca, degli operatori, delle famiglie che incontreremo sul luogo di lavoro, nelle vie dove abitano. E quindi un modo per realizzare un incontro che vada ben oltre le proposte formali. Sindaco, il problema della pesca mediterranea. Sappiamo quali sono, noi abbiamo vissuto un sequestro di recente, ma non è solo questo. Diciamo il problema degli areali di pesca che si vengono sempre più ristretti nel Mediterraneo. Crede che questa sia l'occasione giusta per chiedere alla Commissione del Parlamento Europeo di avere una prospettiva più mediterranea rispetto a una prospettiva cosiddetta atlantico-centrica. Serve una nuova governance in quest'area del Mediterraneo, per più di un motivo. Intanto per le varie zone di protezione o zone esclusive di pesca, o gli insediamenti dei nuovi parchi eolici offshore, che ridurranno e riducono già di tanto le aree cosiddette di pesca. Ma soprattutto serve, e ripeto non è uno scandalo dirlo, passare dallo sforzo di pesca invece al metodo del TAC. Un nuovo metodo di quote. E su questo Mazzara sarà protagonista. Avrà da dire la sua. Che possa contemperare questo metodo le esigenze della Commissione Europea di preservare le varie specie. In particolare a noi riguarda ovviamente il gambero rosso e il gambero viola in questa parte del canale di Sicilia. E una sostenibilità che sia ambientale ed economica. E poi c'è il tema caldissimo del caro gasolio, dei costi energetici. Un combinato di sposto terrificante. L'aumento del carburante dovuto alla recente crisi in Ucraina e soprattutto le modifiche proposte dalla Commissione Pesca questa volta, non quella che ci viene a trovare, non dal Parlamento, dall'organo esecutivo, di eliminare le agevolazioni fiscali sul carburante per tanti settori, fra cui quello della pesca. Cioè eliminare il prezzo delle accise. Questo sarebbe un colpo mortale. Questo e altri temi sono quelli di cui discutere. Sindaco, avete preparato delle proposte ufficiali che farete alla Commissione? Certamente. Domani avremo due tavoli tecnici e lì avremo modo di portare avanti il nostro programma. Sono le tante azioni che abbiamo messo in campo e sulle quali stiamo lavorando. Perché Mazzara deve guardare a uno sviluppo vero, reale del settore della pesca. Oggi l'inerzia delle cose ci racconta di un settore che sta morendo lentamente. Noi vogliamo continuare invece a immaginarci una città di pescatori.